Bella ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione a caldo dell'episodio 129 di Boruto Titolo dell'episodio Il villaggio della foglia Ci siamo Regà, devo dirlo Devo dirlo E non me l'avete mai sentito dire Mi piace Quest'episodio mi è piaciuto un sacco Mi è piaciuto Non ci sono stati i combattimenti Però mi è piaciuto Ci hanno fatto rivedere dei personaggi Ci hanno fatto rivedere Sakura Ci hanno fatto vedere Tsunade, Jiraiya Naruto, chiaramente Ed è così ragazzi che si deve fare una cazzo di puntata Perché se Boruto fosse stato così dall'inizio Sarebbe stato bellissimo, subito Poi, vabbè, vi dico la verità A me qui mi sono piaciute anche molto le animazioni C'è, certe cose che vabbè Sono dettagli, sono dettagli Ma poi ci arriveremo, ci arriveremo perché è verso la fine dell'episodio Ma anche quelle mi sono piaciute Quindi su questa puntata ci sono stati molto, secondo me Cioè, ci hanno lavorato parecchio per farla uscire bene Anche perché se facevi uscire una cagata con Naruto piccolo Sarà... No, Sarada no Sakura, Jiraiya davano fuoco veramente alla struttura Dove tu crei questo animo Davano fuoco, fidati Iniziamo ragazzi e iniziamo con lo spiegone No, spieghino Perché quello che è successo la settimana scorsa Vabbè, ve lo dico in breve Praticamente il nostro Sasuke e Boruto Insieme a Urashiki Si sono portati indietro nel tempo Perché Urashiki voleva andare indietro nel tempo Per l'appunto a uccidere Più che a uccidere A prendere la volpe che sta dentro Naruto bambino Questo è quello che vorrebbe Urashiki Perché attualmente Urashiki non è mai in grado di battere Naruto Grande E in questa puntata ci hanno voluto inserire di nuovo Nel nostro villaggio della foglia Quella che tutti noi conosciamo Iniziamo ragazzi e iniziamo con la tartaruga Che parla e spiega a Sasuke e a Boruto Quello che devono fare Ovvero non devono intromettersi in battaglie Non devono fare niente che possa influire sul futuro Questo è, ma questa è una regola che lo sanno tutti Che l'hanno sempre fatta tutti In tutti i film, in tutti i videogiochi In tutto qualsiasi cosa Quindi queste sono le regole base E quindi si devono camuffare Allora, come si camuffano? Vabbè, Boruto si camuffa da ragazzino Si toglie anche il copre fronte, giustamente Perché non può essere un ninja nel villaggio della foglia del passato Quindi si toglie anche il copre fronte Un ragazzino normale Sasuke si mette un cappello Si mette una giacchetta No Sasuke ti prego Se ti vede Sakura E' finita Se ti vede Sakura E ti riconosce E' finita Si va a sposare con Kiba Quindi lascia perdere No, col berretto stai malissimo E per la cronaca ragazzi Se io vedessi Sasuke vestito così Nel mio villaggio A quell'epoca A quell'epoca ragazzi Mi preoccuperei Quindi se io fossi un ninja E vedessi Sasuke così Gli starei dietro Quindi starei attento A quello che può fare Cioè col cappello Tutto imbaccucato Con i capelli di Vantanocchio Cioè Insomma Non è proprio così rassicurante Sasuke e Boruto Mani in tasca Tranquillo Fischietta Frega cazzi Ma Sasuke insomma Prima cosa ragazzi Che vuole fare Boruto Chiaramente è andare a mangiare No? Normale no? Vuole andare a mangiarsi il suo panino Normalmente in quel ristorante No, sì Un ristorante Bar Comunque non lo so Chiaramente non c'è Non c'è Perché non è stato ancora costruito E chiaramente ragazzi C'è i Chiraku Che è piccolino Dove si va a mangiare il ramen Dove Naruto andava sempre lì Lo conosciamo no? I Chiraku Mi pare sia amici Vabbè Comunque avete capito Boruto e Sasuke Arrivano in questo mondo E Boruto la prima cosa che vuole fare Invece di andare a salvare suo padre Da ragazzino Da Urashiki No Vuole andare a mangiare Sasuke glielo dice Per l'appunto Di guarda Dobbiamo pensare a Naruto Dobbiamo salvare Naruto Lascia perdere il cibo per adesso Andiamo a salvare Naruto Camminando per il villaggio Incrociano Sakura La chiamano da lontano Anzi Boruto La chiama da lontano Sasuke non vuole vederla Perché sì È comunque piccolina Ma è sempre sua moglie Oddio mio Comunque Ho pensato alla moglie di Sasuke Vabbè Lasciamo perdere E quindi Appena Sakura si avvicina Mi stavate chiamando? Sasuke no No abbiamo sbagliato per ora E se ne vanno Cioè Boruto Un minimo Te l'ha spiegato 20 secondi fa La tartaruga Quello che devi fare E te Subito Subito Vedi Sakura Ora ci vai a parlare Subito dopo ragazzi Sasuke fa il discorso a Boruto Gli dice Senti Dobbiamo stare più attenti Anzi devi stare più attento Cioè non puoi andare in giro A fare quello che ti pare E soprattutto Se vediamo Naruto Non dobbiamo stargli così vicini Dobbiamo stare attenti Quindi badarlo Ma da lontano Giustamente anche Un secondo dopo Vanno a sbattere Boruto E un'altra persona E chi è quest'altra persona? È Naruto Quindi sono scontrati così Chiaramente cadono tutti e due per terra Boruto in quel momento Non realizza subito Ma poco dopo realizza Vede che è suo padre Da ragazzino E dice Papà Naruto ci rimane Come papà? Il primo bacio che ho dato L'ho dato a Sasuke Papà? No non dice così Però è il pensiero Che ha avuto In quel momento lì E qui ci presentano Anzi ci ripresentano Il nostro Naruto Da ragazzino E anche Jiraiya Che sta arrivando Correndo fortissimo Contro a Naruto Perché? Perché Jiraiya Lo conosciamo Jiraiya Era andato a spiare Delle ragazze Con un binocolo Lui chiaramente dice Ah lo faccio per il mio libro No? Lo faccio perché Voglio rendere più realistico Il mio libro Certo Come no? Chiaramente scappano E Per un problema C'è un problema Danno la colpa A Sasuke E a Boruto Praticamente Arriva Tsunade Ammazza di botte Non Sasuke e Boruto Ma chiaramente Naruto e Jiraiya E Ci fanno vedere Chiaramente anche Tsunade E ci fa scoprire Che è lei L'Okage In quel momento In quel periodo è lei E in più Ci fanno scoprire Che da poco C'è stato Un ninja Disertore Chiaramente Stiamo parlando Di Sasuke Però La cosa Finisce lì Nel senso Ci fanno capire Che c'è un ninja Disertore Ma non ci dicono Chi è E Tsunade Da una missione A Jiraiya E a Naruto Ovvero Di badare Sasuke E Boruto Loro si sono spacciati Per Giocolieri O comunque Per persone Che vanno Di paese in paese A far divertire La gente Io vorrei chiedere Una cosa Vorrei chiedere Una cosa Sasuke Va bene Tu hai detto Questa cosa Ma perché In tasca Avevi una pallina Che quando L'hai tirata in alto È esplosa Sono usciti Dei coriandoli Perché tu Sasuke Uno dei ninja Più forti Del mondo Giri con in tasca Una pallina Che fa I coriandoli Non credo Si possa usare In combattimento Quindi Sasuke Spiegamelo Passa poco tempo E Jiraiya Se ne va Dice Naruto Il tuo allenamento È badare loro Stai dietro a loro Che non facciano cose strane Io ho da fare Il mio libro E se ne va È Jiraiya ragazzi Lo conosciamo tutti Però è questo il bello Arriva sera E Naruto Ragazzino Boruto E Sasuke Stanno camminando E da lontano C'è di nuovo Sakura C'è di nuovo Sakura In quel momento Sasuke la vede E Sparisce Praticamente Si Stelettrasporta Vabbè salta su un albero Salta su un albero E dice con Boruto Che è meglio Che lui non incontri Sakura Giustamente Come vi ho detto io Comunque si conoscono Perché alla fine Sakura conosce bene Sasuke Sasuke conosce Sakura Non vorrebbero far tipo dei fail Almeno non vorrebbe far tipo dei fail Sasuke Incontrano Sakura Quindi Naruto e Boruto Incontrano Sakura E Qui Boruto Capisce che Sakura È uguale A Sarada Uguale Spicciché Spicciché Proprio Uguale E qui ragazzi Ci fa vedere che Sakura Capisce che Boruto E Naruto Sono praticamente Identici Quando lei gli dice Ah siete molto simili Loro rispondono addirittura Uguale La stessa cosa No non ci assomigliamo per niente All'unisono Rispondono la stessa cosa Qui ti fa capire Che sono veramente identici Chiaramente padre e figlio Chiaramente alla sera Ragazzi Boruto deve andare a dormire Da qualche parte E visto che Naruto Deve fargli Da badante Dice Vieni a dormire a casa mia Vi ricordate voi La casa di Naruto All'inizio Vi ricordate Era un buco C'era la sala Dove mangiavi Insieme alla cucina E la camera da letto E il bagno Punto Questa era la camera di Naruto Entra Ricordo che ancora non si erano presentati Quindi Boruto gli dice Guarda io mi chiamo Boruto E io sono Naruto Uzumaki Che cazzo vuoi Lo so Sei mio padre Però comunque si presentano Perché ancora non si erano presentati Tutto il giorno E entrano in casa di Naruto E mangiano Chiaramente Boruto Chissà cosa si aspettava Da mangiare Del ramen Cioè non è che Naruto Da ragazzino Va a così tanti soldi E quindi mangia il ramen Cioè ha scaffali pieni di ramen Naruto Ok E anche qui Boruto capisce che Suo padre Quindi Naruto Da ragazzino E da grande Sono identici Anche nel metodo In cui mangiano il ramen Cioè non è cambiato Praticamente per niente Naruto Arriviamo alla notte Ed è Secondo me La scena più bella Di tutto l'episodio Ci fanno vedere Naruto sul letto E Boruto sul futon Lì di fianco Non riescono a dormire Quindi Naruto Chiede a Boruto Intanto di Sasuke Ma Sasuke è tuo padre? No Non è mio padre Il mio maestro Gli spiega questa cosa E poi Naruto Gli chiede Com'è tuo padre A Boruto E Boruto Gli ha raccontato Un aneddoto Quello della torta Quando Quando è tornato a casa Ma era stanco E ha fatto cadere la torta Gli ha raccontato Questo aneddoto qui E Chiaramente Qui mi ha fatto Mi ha fatto molto pena Devo dire la verità A Naruto Mi ha fatto molto pena Lo sapevamo già Ma ha fatto comunque Molto pena Naruto si rimette Nel letto Tranquillamente Così E dice Ok Tuo padre è un pasticcione Però tu gli vuoi bene E qui ti ha fatto capire Che sì Tuo padre sarà un pasticcione Quanto cazzo vuoi Potrà essere cattivo Tu quello che vuoi Per dire Però almeno Tu ce l'hai Un padre Questo ti ha fatto capire E Boruto Gli ha detto Sì Gli voglio bene Ed è stato bellissimo Ragazzi È stato bellissimo Anche Ripeto Anche le animazioni Sono state veramente Fatte bene E questo è quello Che voglio ragazzi Questo è quello Che voglio vedere Io in Boruto Questi episodi Sono bellissimi Anche senza combattimenti Ma sono bellissimi E concludo qui il video Ragazzi Vi lascio a voi Sotto nei commenti Qui a scrivere Il vostro pensiero Sull'episodio Su quello che magari potrà succedere Mi raccomando ragazzi Non lo spoilerate Non mi scrivete qua sotto Quello che succederà Perché magari l'avete visto Io lo sapete Non lo guardo Perché non voglio vedere Quindi non me lo spoilerate Però magari scrivetemi Il vostro pensiero Su questo episodio Su quello che potrà succedere Se il video vi è piaciuto Ragazzi Lasciate un bel pollice in su Se non vi è piaciuto Chiaramente Pollice in giù E Bella